Caracciolo, intanto è vero che siamo già in guerra perché si parla sempre più spesso e con toni sempre più allarmati di un rischio bellico che si allarghi anche alla nostra parte di Europa e quando prima Massimo Giannini citava il rischio che la Russia possa utilizzare il nucleare tattico aumenta questo rischio? Sì, francamente non credo che sia l'ordine del giorno ma quello che mi pare abbastanza evidente è che noi siamo in una fase e la guerra in un'altra, noi parliamo di finanzieremo, faremo, daremo soldi, daremo armi ma qui la partita probabilmente si gioca in un modo o in un altro nei prossimi mesi e noi in ogni caso anche se adesso dessimo fondo alle ultime risorse avremo ben poco da dare all'Ucraina ed è anche abbastanza ridicolo se non fosse anche un po' tragico che qualche leader europeo parli di inviare truppe non avendo munizioni da dargli nel senso che abbiamo munizioni se va bene per 3-4 giorni, quindi di che cosa stiamo parlando? Il problema è che quando manca una visione strategica tutto diventa propaganda, tutto diventa comunicazione si fanno grandi discussioni di principio, per esempio quella che sta sui fondi che si possono usare i fondi russi? Se li usiamo si crea un notevole precedente, pensate solamente a un saudita che dice ma io adesso magari i miei soldi ce li ho in America e se c'è una guerra l'America mi sequestra i soldi cioè cerchiamo di capire quelle che sono le diramazioni di questa guerra poi certamente noi siamo dentro questa guerra, armiamo gli ucraini, finanziamo gli ucraini l'Ucraina non ha altro modo di vivere che attraverso quello che noi mandiamo noi occidente mandiamo l'Ucraina, se no sarebbe collassata già da tempo sul terreno i russi si apure lentamente, avanzano non credo che siano nelle condizioni di sfondare cioè se volessero veramente sfondare dovrebbero fare un'altra mobilitazione però un'altra mobilitazione significa mettere pressione sull'opinione pubblica russa perché a quel punto dovresti attingere a risorse estreme magari mandare al fronte qualche ragazzo di Mosca o San Pietroburgo invece che un baschino o un ceceno e la cosa cambierebbe completamente quindi sarebbe un problema serio anche per Putin E si allontana o si avvicina con quello che sta succedendo in queste ore a Mosca? vediamo sempre le immagini in diretta l'idea e la prospettiva di creare una difesa comune europea lo chiedo a te Lucio e poi anche agli altri oscini è appunto quello che cercavo di dire attraverso la differenza di tempo cioè prima di tutto non è all'orizzonte per vari motivi tra cui quello che normalmente un esercito appartiene a uno Stato non essendoci uno Stato europeo non si capisce bene che tipo di esercito sarebbe chi lo comanderebbe farebbe una rotazione una volta il lituano l'altra l'irlandese e poi il giorno dopo il portoghese parliamo di cose serie cioè parliamo del fatto che in questo momento si tratta di impedire il collasso dell'Ucraina di fare finire più rapidamente possibile questa guerra non con la pace ma con un cessato il fuoco si parla di soluzioni coreane o non lo so bisogna comunque riprendere un dialogo diplomatico e questo sta essenzialmente nel rapporto americano-russo penso che in questo momento il vero problema è che a differenza del passato russi e americani parlano alfabeti difficilmente comprensibili e soprattutto gli ucraini sono in una situazione tale da poter fare anche delle cose di testa loro anche contro quello che gli dicono gli americani e a quel punto la partita è veramente fuori controllo Massimo Giannini quindi come impatta tutto questo anche?